Torna di attualità, del resto senza essere mai uscita di scena, la questione trasporti pubblici a Campobasso. A riprendere il tema è stata la UGL Autoferro che è intervenuta attraverso il segretario provinciale Nicolino Libertone. È urgente, dice, rinnovare il parco macchine. Allo stato attuale è il parco autobus che è vecchissimo e non si rinnova. Si fa scarica a barile tra Regione e Molise. C'è da dire che il fondo del TPL, che sarebbe il fondo che il Ministero dei Trasporti nazionale trasferisce alla Regione Molise, è unico. Non è scritto da nessuna parte che i servizi urbani, Campobasso, Termolo, Larino e Isernia, vengano esclusi dall'acquisto degli autobus. Da Libertone un plauso al prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, per l'impegno profuso sulla vicenda e sulla vertenza SEAC. All'orizzonte, infatti, potrebbero esserci anche licenziamenti nel prossimo autunno. Se non era per la sua eccellenza il prefetto che convocava la Regione, insomma tutte le parti, questa riunione non si sarebbe mai fatta. Quindi io colgo l'occasione per ringraziare il prefetto per la sensibilità che ha avuto sia nei confronti dei cittadini, perché si va a tagliare il servizio, altrettanto per i dipendenti che ci saranno problemi occupazionali e sociali. Attesa invece tra qualche settimana la nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio. L'assessore Gretel ci ha detto che il 15 si dovrebbe concludere l'iter del bando di gara e quindi attendiamo quello che succede per il nuovo affidamento del bando di gara.